e benvenuti in questo nuovo video di x e max 11 andiamo a vedere che cosa hanno inserito nel negozio oggetti richiamoci nel negozio oggetti ok allora abbiamo sempre questi quattro bundle e dopo hanno rimesso questi fantastici supereroi che si possono cambiare con i loro stili allora intanto abbiamo questa versione femminile poi ovviamente sarà personalizzabile come ognuno vorrà qua ci sono i vari set quello che si può andare a cambiare il colore e queste qua sono skin leggendari del capitolo 2 della stagione 4 guardate ci sono questa qua bionda questa qua con questi capelli rossi finali con la mascherina negli occhi e via dicendo queste skin costano 1800 vbac poi abbiamo questo torso decorativo olo zaino del capitolo 2 della stagione 4 del valore di 400 vbac con questa emote con questo gelatino vediamo gli stili ecco qua qua ci sono i vari stili ovviamente pure loro modificabili poi abbiamo sempre del set dei supereroi con questo mantello che si può modificare sempre nel valore di 400 vbac e dopo abbiamo impulso fantasmatico epico del valore di 1200 vbac ed è uno strumento di raccolta bellissimo questo qua e anche questo modificabile con i suoi vari colori e stili colore secondario e via dicendo poi abbiamo il pacchetto come bundle dello strumento più dorso decorativo più l'altro dorso decorativo più delle emote al valore di 1400 vbac invece di 2000 vbac poi abbiamo dinamo fa parte del set lucca stagione 5 del valore di 1200 vbac raro poi abbiamo difensore scarlatto della stagione 3 una skin non comune del valore di 800 vbac vedetela con i suoi due stili con questo stile natalizio anzi non proprio natalizio però va bene simile simil natal poi c'è concentrazione punto focale della stagione 9 un costume raro del valore di 1200 vbac con il suo dorso decorativo vedetela nel dettaglio questa qua davvero interessante skin molto dinamica dinamica direi poi abbiamo turbine di fuoco questa emote epica della stagione 8 del valore di 800 vbac che gioca con questi fuocarelli con questi giochi da circo bellissimo questo è bellissimo una bellissima emote lasciamo un bel like per turbine di fuoco ragazzi poi abbiamo piangistei della stagione 4 non comune del valore di 200 vbac guardate come piangere non piangere poi abbiamo marcia polare questa marcia di pinguino del capitolo 2 della stagione 3 del valore di 200 vbac e mi sa che per lo shop di oggi è tutto ragazzi lasciamo un bel like per questi supereroi leggendari e iscrivetevi al canale ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video